non tornavo a cefarù da un po di tempo e devo dire che ogni volta che vi rimetto piede è sempre un'emozione diversa scorci sempre nuovi ti sorprendono a ogni angolo e nella penombra di ogni vicolo per non contare ovviamente il mare il lavatoio medievale i musei le chiese e la cattedrale tappa dell'itinerario arabo normanno unesco fare una passeggiata per il suo centro storico è una bella sudata per arrivare fino alla cima della rocca che domina la città è un'esperienza che ti fa innamorare non solo di questo luogo magico ma della sicilia intera grazie a tutti